ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti su questo video in cui andremo a vedere cosa contiene questa scatola acquistata su un famoso sito di cui adesso non vi dico no perché non voglio fargli pubblicità ma si capisce tranquillamente vedendo la scatola e praticamente andremo ad aprire questa scatola misteriosa di cui ho fatto degli acquisti e acquisti di cui vedrete i video prossimamente allora vi do un'anticipazione uno è una cosa con cui farò sicuramente un video con mia figlia è una cosa per lei e se lei vorrà ci faremo un video da portare sul canale l'altra invece ci interessa in modo particolare perché fa parte della collezione di un mio album che vorrei quest'anno cercare di finire perché non ho mai finito un album di questo editore e quindi vorrei impegnarmi e cercare di finirlo perché sono tre o quattro anni che questo editore fa questo tipo di album e io non sono mai riuscito a terminarlo ma non ho mai avuto più di tanto voglia di finirlo invece quest'anno voglio veramente portarlo a termine quindi ragazzi non troveremo qualcosa della panini qui allora andiamo ad aprire la nostra scatola io mi sono attrezzato con il taglierino come vedete c'è un bel po' di carta e tiriamo fuori la prima cosa che è questa ragazzi è una Lil Sister che piace moltissimo Danita e che io l'ho voluta accontentare acquistandola su questo sito e adesso vedremo se ne faremo un video come vedete ci sono un tot di sorprese che sono cinque c'è lo specchietto, c'è l'indizio, ci sono le scarpe, c'è il cappello e c'è la Lil che sarebbe la sorella delle LOL Surprise e infatti Lil Sisters come potete vedere adesso vedremo poi cosa troveremo al suo interno e poi ecco qui abbiamo quello che ci interessa di più è un bel box completo, chiuso, sigillato della raccolta di Champions League di quest'anno quindi 2018-2019 raccolta che abbiamo iniziato ho preso già un box questi sono box da 30 bustine sono box secondo me buoni perché praticamente con poco ti porti a casa un box io consiglio sempre di prendere un box perché in teoria, ragazzi parlo in teoria perché poi in pratica non è sempre così si trovano meno doppioni questo con 30 bustine lo portate a casa con una ventina d'euro quindi è un buon prezzo quindi ragazzi abbiamo box di Champions League 2018-2019 e Lil Surprise nei prossimi video vedremo spacchettamenti di queste due cose quindi mi raccomando restate sintonizzati sul canale iscrivetevi se non siete iscritti attivate la campanella e non perdetevi i prossimi video ciao a tutti ciao a tutti